Teresa Cannavaciolo, Presidente dell'Associazione Nuovi Orizzonti, stamattina Luci, Suoni e Solidarietà, in questo caso soltanto solidarietà per Teleton, per trovare fondi da destinare alla ricerca sulle malattie genetiche. Sì, Teleton è il secondo anno che lo facciamo, quest'anno insieme alle altre associazioni, alle sigle sindacali che partecipano con noi al calendario Luci, Suoni e Solidarietà, Teleton perché i bambini ne hanno bisogno, perché c'è bisogno di ricerca e c'è bisogno di trovare la soluzione alle malattie genetiche. La maratona televisiva sta dando i suoi frutti ma serve anche la collaborazione sulle piazze dei cittadini che partecipano attivamente. Sì, Teleton dà soddisfazione da anni, stamattina siamo arrivati alle 10, meno 10, un vecchietto ci aspettava, voleva il cuore, voleva aiutare i bambini.